Pizza Doc, si scioglie in boc, è uno shock, da Napoleon New York, Pizza Doc. Ho scelto Pizza Doc perché in questi momenti mi sembra l'associazione migliore per quanto riguarda la tenuta dei corsi in Italia e non solo. Pizza Doc, è uno shock, da Napoleon New York, Pizza Doc, è buono sottenco, Pizza Doc!